Ti spiego come si fa urlare o fischiare la chitarra elettrica In realtà stiamo suonando degli armonici artificiali Per farlo metti la mano con cui plettri a pistola Indici ad uncino, poggi il plettro sopra e chiudi con il pollice Il resto delle dita puoi tenerle aperte o chiuse non fa differenza Colpisci prima la corda con la punta e subito dopo con il bordo del pollice Il movimento della mano è una cosa del genere Aggiungi distorsione, direi e riverbero a piacere E il risultato diventa questo E il risultato diventa questo